Ciao amici! Oggi con questa zucca ci facciamo la zucca ratinata. Per prima cosa togliete la buccia della zucca e la tagliate così, a queste fette. Questo maglia sempre tutto. È buona? Adesso dentro al pancattato ci mettiamo formaggio, basta mangiare, lo farino, erba, cipollina e sale. Questa è erba, cipollina, sale. Adesso mescoliamo un pochino gli ingredienti, in modo che non cade. Adesso mettete un pochino di olio nella tenda. Basta. Prendete una fetta di zucca, la mettete un po' dentro l'olio, da tutti e due i lati. Non troppo, sennò diventa un olio. Il condimento che abbiamo fatto prima, sempre sul presunto. e la mettiamo nella teglia, che ci abbiamo messo l'olio. Alla fine, come sempre, ce le mangeremo, assaugeremo come stanno venute. Le fate tutte così, si mettono in forno e le mangiamo. Ed ecco la nostra zucca gratinata. Adesso sentiamo. Adesso sentiamo così qua. Adesso... Adesso sentiamo. Adesso sentiamo. è esatto che buona ciao ciao amici